che guaio per l'ex gf no è imbarazzante la situazione che sta vivendo e i follower non la prendono per niente bene l'ex concorrente del grande fratello finirà in galera per quello che ha fatto sono in molti che pensano sia solo questione di tempo l'ex concorrente del grande fratello l'ha fatta grossa è nei guai e forse non l'ha nemmeno capito quel che è successo è imbarazzante finirà in galera è solo questione di tempo e il web si ribella come ha potuto ridursi in questa maniera non sempre la fama che rilasciano i reality aiutano veramente un vip a trovare quella notorietà che tanto bramano ovvio che bisogna anche avere fortuna e talento per arrivare a certi livelli e l'ex gf no lo sa bene quanto è difficile lui ci prova ma non sempre le cose vanno come si spera ecco cosa fatto di tanto grave da fare arrabbiare i suoi follower l'ex concorrente del grande fratello è decisamente nei guai prima di proseguire con l'ex gf no vogliamo parlarvi dei nuovi protagonisti di questa edizione del grande fratello ci sono novità in vista e i telespettatori non vedono l'ora di vedere uno dei loro reality preferiti direttamente in tv per chi non lo sapesse questa nuova edizione sbarcherà sui canali mediaset l'11 settembre in prima serata con l'agguerrito alfonso signorini più carico che mai al suo fianco troveremo cesara buonamici nei panni dell'unica opinionista e rebecca staffelli che rivestirà il medesimo ruolo dell'anno scorso di giulia salemi di rumors in questi mesi ne sono girati molti ma per il momento i nomi ufficiali trasmessi direttamente dalla redazione sono solo 6 3 nip e 3 vip ecco chi sono i futuri concorrenti del grande fratello alex schweiser grecia colmenare e beatrice luzzi per quanto riguarda i nip invece giselda torresan vittorio menozzi e letizia petris in questi giorni sicuramente usciranno altre comunicazioni in merito vi abbiamo tenuto ancora un po sulle spine ma non vogliamo essere troppo cattivi per cui stiamo per svelarvi in che guaio è finito a detta di moltissimi follower l'ex concorrente del grande fratello denis dosi si è improvvisato attore in una scenetta postata poi sui social il risultato però non è stato dei migliori in quanto la sua interpretazione non è stata gradita da molti c'è chi ha dichiarato finirà in galera imbarazzante cosa vedono i miei occhi rivoglio indietro i miei 35 secondi di vita non vogliamo anticiparvi nulla per non influenzarvi quindi vi riportiamo direttamente il video di denis dosi fateci sapere cosa ne pensate ciao 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 ciao